Qualcuno ha detto che creare qualcosa che ancora non esiste deve essere l'ambizione di tutti coloro che sono vivi. Il segreto per fare bene il mio lavoro è considerarmi sempre apprendista. L'artigianato è la cosa che ti caratterizza, che ti differenzia da tutto il resto. L'insegnamento a bottega funziona così, è occhi e mani, quindi tu assorbi quello che vedi. Comanda lui qua, è il lieve ciò che comanda. Si deve tornare ad essere lenti. Le cose migliori si fanno quando uno è in uno stato di pace interiore e spesso io qua la trovo. L'uggiatto è vivo, quindi suona, dà gioia. Io raccomanderei questo tipo di lavoro a un giovane che ancora non ha le idee chiare. Ci vuole tanto impegno, eh? Tanto impegno, tanti sacrifici. Io quando esco di casa alzo gli occhi al cielo e guardo il tempo. Capisco già come dovrò impastare la nostra focaccia. Ora vogliono fare tutti gli influencer, ma nessuno vuole fare un lavoro manuale. La ceramica è magia. Per me lavorare è giocare, divertirmi. Non sono mai cresciuto. Vi porto a fare un viaggio. Un viaggio nelle botteghe di chi ogni giorno taglia, impasta, disegna, lucida, cuce, immagina la propria vita e ne fa un capolavoro. Per me lavorare, domani. Grazie a tutti.